L'amicizia è molto importante nella vita e come tutte le cose va conosciuta, va imparata e va gestita. Non credere che l'amicizia sia un fatto spontaneo. Se ti basi sulla spontaneità rischi di considerare spontanea certe tue reazioni e certi tuoi bisogni che in realtà non sono ciò che rende vitale un'amicizia. E allora, se permetti, ti indico quattro solide basi per l'amicizia, per fare in modo che i tuoi rapporti di fraternità siano costruttivi e abbiano un futuro. Il primo suggerimento che mi permetto di passarti riguarda la condivisione. Deve essere una condivisione di un presente, di un presente vitale. Quindi essere amici non è incontrarsi per raccontarsi dei pettegorezzi, oppure incontrarsi per raccontare che cosa abbiamo fatto prima ad incontrarci. Quello che è successo prima non riguarda il presente. Probabilmente la persona con cui parliamo non lo conosce. Può essere simpatico raccontare qualche aneddoto, certo, ma non è il raccontarsi la base dell'esistenza di un'amicizia. Siccome viviamo nel presente e ci conviene preparare il futuro, una buona base per l'amicizia è condividere un presente vitale. Condividere significa affrontare insieme il presente. Quindi per creare una buona amicizia parti da dove sei, da quello che sta succedendo e parla di come questo presente riguarda te e riguarda l'altra persona. E parlane in un modo vitale. Quindi del presente non notare le cose che non funzionano, ma nota tutto quello che può essere un seme per il futuro. Quando hai questa prima base puoi passare alla seconda per creare un'amicizia di valore. E la seconda base consiste nel valorizzarsi a vicenda. Gli amici sono tali quando tirano fuori da te il meglio, ti valorizzano, ti sostengono. E quando tu fai lo stesso nei loro confronti. La valorizzazione e riconoscere la preziosità della persona è un bellissimo dono che gli amici si scambiano. Ed è un continuo dono che deve essere scambiato appunto in egual misura da una parte e dall'altra. Un'amicizia non può fondarsi su un rapporto sbilanciato in cui qualcuno dà e l'altro riceve sempre. Ci sono dei momenti in cui si dà soltanto, ma sono appunto dei momenti, dei periodi. E poi c'è uno scambio. C'è una valorizzazione che si compensa. Questo è molto importante. Gli amici si distinguono dai conoscenti proprio perché mettono valore nella vita, nel vero senso della parola. Un'altra base importante che potresti considerare per creare delle amicizie di valori riguarda la costruzione di un futuro originale. Quindi essere amici non significa accostare i propri cammini e procedere così, sull'onda dell'incertezza. Il vantaggio di conoscere qualcuno che ci valorizza e che noi valorizziamo, che noi stimiamo, permette di costruire un futuro originale, cioè che origina qualcosa di vitale, qualcosa di bello. Gli amici, per la simpatia che reciprocamente proviamo, sono degli ottimi alleati. E allora usiamo questa alleanza per costruire qualcosa che ha un futuro, qualcosa che migliora noi, che migliora il mondo, qualcosa che rende più bella la vita sulla Terra. E infine, se mi permetti ancora di darti un suggerimento, ti dico questo. Per creare una buona amicizia, occorre garantire lealtà. Un'amicizia non è uno sfruttamento. Un'amicizia non è un frequentarsi perché si sta bene. E dopo, appena diminuisce la quantità di benessere materiale, ecco che le amicizie svaniscono. Un'amicizia è un impegno, è un impegno di lealtà. Perciò scegli bene i tuoi amici. Perché un amico, qualcuno a cui tu dici che sei amico, è una persona che merita lealtà, che deve poter contare sulla tua lealtà, come tu, giustamente, devi poter contare sulla lealtà delle altre persone che dicono di essere tue amiche. Questo è molto importante, tienilo presente, soprattutto oggi quando è facilissimo dichiararsi amici, sorridere, andare a bere un aperitivo, a raccontare quattro pettegolezzi e divertirsi. Quelle non sono le basi di un'amicizia. Tante alleanze finiscono proprio perché si basavano su quello. Perciò, concediti il bellissimo regalo di vivere delle vere amicizie e di essere un amico di valore. Ispirati a queste quattro solide basi e vedrai che sarai una persona migliore e incontrerai persone migliori.